Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono iniziative estremamente preziose e molto ben accolte dai bambini che vengono ricoverati presso la pediatria di Ibrea. Ci permette di far vivere l'ospedale e il ricovero, il passaggio in pediatria come un momento non così triste e traumatizzante, ma come un momento anche di allegria e di serenità in amicizia. È estremamente importante che il bimbo impari a conoscere l'ospedale e la pediatria come un aiuto per la sua salute, per il suo benessere fisico, psichico e anche sociale, e non soltanto come un punto dove ci si va a curare quando si sta male, dovendo subire torture, tra virgolette, aghi, prelievi, esami e aver paura della struttura e aver voglia di fuggire il più presto possibile. È tanto importante invece che una pediatria come la nostra, che si occupa di un territorio molto ampio, possa essere vista dal bambino e dalla sua famiglia come un punto amico a cui rivolgersi quando si è in difficoltà dal punto di vista sanitario. Io ci sto, piano piano ci sto. Ehi, dai, dai, dai una macchina fotografica. io faccio finta di essere il nonno di Racheve e risulta benissimo di questo cugino di Babbo Natale vero Racheve? ma lei ha visto il low kitty guarda che lì c'è la famiglia con tutti i coniglietti guarda come sono belli guarda che è questo che è bello questo dagli uno alla mamma ma no uno solo come si dice? buona? buona tante però a fare le foto non eri così timida ma adesso cosa vuoi fare? dobbiamo giocarci? e ci mettiamo ringrazio a tutti però aspetta facciamo finta di essere timida grazie a tutti grazie 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 a tutti.